In questo nuovo video ritorniamo a parlare dei film del cuore. E lo facciamo parlando di Tentacoli, 1977, regia di Ovidio Assonitis. Tentacoli è uno di quei film che si inserisce nel filone acquatico dopo il grande successo dello squalo di Spielberg, quindi risveglia negli spettatori la paura ancestrale degli abissi, delle minacce, insomma, di creature marine pericolose. E quindi, così come dopo lo squalo ci sono stati l'orca assassina, Tintorera, Barracuda, Piragna e chi più ne ha più ne metta. Il regista Italo-Greco Assonitis, che è un geniaccio assoluto, scrive e dirige un film che è assolutamente fantastico. Perché, come creatura marina mostruosa, dopo lo squalo, lui si inventa un polipone gigante, un pulpo, un polipone gigante, una piovra, che con questi tentacoli, appunto, afferra le sue vittime, anche se non si trovano in acqua, su un pontile, su un molo, su una barca, allungando i suoi tentacoli, risucchia il malcapitato e se lo porta giù negli abissi. E il tutto si svolge nella città di San Diego, in California, Solana Beach, nel film, e ci sono queste misteriosi morti, dapprima tocca a un bambino, ci sono delle scene fantastiche, proprio la scena iniziale del bambino. C'è questo bambino nel passeggino con la mamma, sta praticamente sul ciglio del molo, un'amica della madre si ferma dall'altra parte della strada con la macchina, la mamma attraversa un attimo la strada, mentre stanno parlando, si vede il bambino nel passeggino sullo sfondo, passa un pullman giallo, dopo che è passato il pullman giallo, il passeggino con il bambino è scomparso. E poi si vede il passeggino in mare, e quindi il povero bimbo che non c'è più. Questa è la prima vittima, poi c'è un pescatore, insomma, queste vittime hanno la caratteristica comune di essere praticamente maciullati, vengono ritrovati questi corpi maciullati, come se fossero stati aspirati da grosse ventose. Quindi un oceanologo e un giornalista intraprendente arriveranno alla conclusione che c'è una misteriosa creatura marina, mostruosa, che è stata risvegliata dagli abissi. E come è stata risvegliata? Perché stanno facendo degli scavi, stanno scavando un tunnel e quindi con delle onde radio antisismiche, stanno scavando questo tunnel sottomarino, e quindi questo ha risvegliato questa creatura mostruosa che poi praticamente seminerà il terrore. Cast Favoloso, Henry Fonda, Shelley Winters, John Huston, Bo Hopkins, poi italiane Delia Boccardo, Franco Diogene, altra scena cult, quella di Franco Diogene, il corpulento, il chiatone, come diciamo, bello grosso, no? Franco Diogene, faccia di genere vista in tantissimi film italiani, e praticamente è anche lui una vittima della piovra, del polipone gigante, e c'è questa bellissima scena delle due gambe che sbucano dal pelo dell'acqua, rimangono lì ferme, riaffiorano dall'acqua, bellissima scena, fantastica. Ma Assonitis sapeva girare in modo egregio, non è il primo film di Assonitis che mi tocca magnificare, ma è uno che sapeva il fatto suo, come regista, come produttore, qui addirittura si è inventato un Assonisound, dal suo cognome Assonitisound, che era una sorta di Dolby Digital primordiale, con delle casse supplementari per aumentare il volume, per creare un effetto audio destra-sinistra, dei pattern anteriore e posteriore. Insomma, è una cosa che chi ha visto il film all'epoca in sala, magari avrà potuto goderne, nelle sale che erano appunto compatibili, o comunque strutturate in modo da poter ospitare questo rivoluzionario Assony Round Sound. Comunque, Cassa Stellare, film bellissimo, io da bambino sono sempre stato rapito da questo film, perché l'ho visto sulle TV private, tanto per cambiare, perché ero piccolino, l'ho visto tantissime volte, e tra l'altro grandissimo ricordo mio personale, perché è stato il mio primo film registrato con il videoregistratore nell'83, in una calda serata di luglio dell'83, con il videoregistratore Betamax, questo è stato il primo film che ho registrato su Rete 4, Tentacoli, pensa. Quindi come posso non avere dei ricordi bellissimi di questo film, a parte che il film mi piace, è girato molto bene, non è che abbia pretese di capolavoro, l'ha visto per quello che è, un film di intrattenimento, come Lo Squalo, questi film acquatici, non è che hanno queste grosse pretese ecologiste, o messaggi che vogliono lanciare, ma quando, a Sonite si interessava solo il soldino, guadagnare, e quindi ho fatto un film, con un cast all-stars, ben riuscito, devo dire. E un tocco in più che dà al film, lo dà chiaramente la colla, sono una del maestro Silvio Cipriani, ogni qualvolta sta per comparire il mostro, o c'è una minaccia che incombe sul personaggio, parte un jingle, fantastico, è bellissimo, riesco pazzo ogni volta. Quindi quando c'è una minaccia, il personaggio sta per essere colpito, oppure la piovra si sta avvicinando, cioè queste sono delle riprese subacue fantastiche, quando il mostro si sta per avvicinare, o sta per succedere qualcosa, è bellissimo, come si fa a non amare un film così? È stupendo, è fantastico. Recentemente su Facebook ho letto, in uno dei soliti gruppi di ragazzini di nerd, che non hanno neanche i peli sul petto, vabbè, questo film non mi dice niente, una cagata, le musiche di Silvio Cipriani sono anonime, voglio dire che le musiche di Cipriani sono anonime, ci vogliono gli schiaffi proprio così, proprio a poh, ho la testa in mezzo, le due mani così, po-po-po-m. Silvio Cipriani, musiche anonime. A parte che poi in questo film, a parte il jingle simpatico di cui parlavamo, riprende anche il tema della polizia sta a guardare, che è riarrangiato nella scena della regata, perché poi chiaramente ci sarà una regata, con tutti i personaggi, una cinquantina di persone partecipano a questa regata velica, e il mostro richiamato dalle onde radio, perché uno dei protagonisti c'era il walkie-talkie, seminerà il panico durante la regata, cioè è bellissimo, è un film stupendo, poi alla fine ci sono le due orche, Summer e Winter, un film bellissimo, ma di che stiamo parlando? Cioè tentacoli ragazzi, sentite oggi dire no tentacoli, smettetela, non vi piace, non è per voi questo cinema, non fa per voi, guardatevi le serie, i videoclippare, guardatevi cose che non... lasciate perdere, il cinema anni 70, il cinema... sono per pochi, e allora lasciatelo ai pochi, voi prendetevi la schifezza di adesso, questo lasciatecelo a noi per piacere. sta arrivando. Allora, qui abbiamo questo bellissimo DVD, della Pulp Video, Pulp Video qualità altalenante, faceva dei buonissimi dischetti, ed altri che invece erano pessimi, questo invece ottimo, tentacoli della Pulp Video, uno dei DVD più belli che abbiano mai realizzato, ma la chicca più importante viene qua, guardate qui, questa edizione inglese della 88 Films, questo c'è una slip cartonata rigida, bellissima, a parte questo disegno, l'abbè fatto per l'occasione, ma la cosa bella è che, aprendolo, dentro c'è la sua bella locandina originale, con un cover reversibile, chiaramente parliamo di un'edizione Blu-ray con audio italiano, naturalmente, e quindi abbiamo la cover reversibile, questa è l'artwork che hanno fatto adesso nuovo, ma dietro c'è la copertina, con la locandina italiana, originale d'epoca, cosa anche molto carina, dentro c'è anche un poster, hanno fatto anche un bel poster simpatico, che se uno solo vuole attaccare nella sua cameretta, fa la sua porca figura direi, molto carino, veramente una bellissima edizione, master fantastico, meraviglioso, mi sono goduto il film come non mai, negli extra ci sono delle belle interviste, curate da Eugenio Ercolani, al regista Sonitis, al direttore della fotografia Roberto De Torre Piazzoli, c'è anche un intervento di Luigi Cozzi, un sacco di ex, insomma ragazzi, un Blu-ray assolutamente da acquistare, film bellissimo che ve lo dico a fare, musiche di Selvio Cipriani, è bellissimo, a me mi fa impazzire sta cosa, non ci posso fare niente, è troppo bello, quindi, per concludere, da vedere, da vedere, da vedere, da vedere, conoscere, conoscere. Grazie a tutti.